una buonissima serata a tutti voi cari amici e cari amiche di Angoli come sempre ben ritrovati al nostro appuntamento che vuole iniziare con il racconto di un progetto che si rivolge veramente a tutti quanti e che è stato immaginato e promosso da A5 Energia. Sono tantissimi i contenuti ma soprattutto l'obiettivo è proprio quello di essere di sostegno a tutti i cittadini. Nel dettaglio entreremo come facciamo sempre con i nostri ospiti che vi presento subito. Sono con me coordinatrice comunicazione commerciale per A5 Energia, la dottoressa Viviana Marini. Ben arrivata ad Angoli. Buonasera. Grazie per essere con noi. E psicologo, psicoterapeuta, professore presso l'Università Cattolica e l'Istituto Auxologico Italiano, il professor Gianluca Castelnuovo. Buonasera e grazie. Quindi, come ho detto, Viviana, parto subito da lei. Un progetto importante nei contenuti ma soprattutto credo anche per il fatto che si rivolga in maniera omnicomprensiva a tutti quanti. Quindi come nasce questo progetto? È un progetto che nasce, potremmo dire, veramente al caffè nella sede di A5 Energia dove noi che siamo i dipendenti siamo prima di tutto genitori piuttosto che nonni di giovani e di ragazzi che in questo momento vivono delle fragilità forti. A5 Energia vuole essere innanzitutto un'azienda che è la multiutiliti del territorio e che vuole unire non solo i territori, appunto, quindi le province di riferimento, ma anche le persone e soprattutto le generazioni. Per questo vogliamo ricondividere questo valore sociale forte sul territorio in modo tale da poter essere di sostegno a chi come noi è, prima di essere un lavoratore, un cittadino e quindi genitore piuttosto che nonno di questi giovani di una generazione così fragile da sostenere e tutelare. Quindi Viviana mi sembra di comprendere che nelle chiacchiere, proprio nelle pause tra una mansione e l'altra vi siete confrontati, vi siete resi conto di condividere probabilmente le stesse preoccupazioni e avete pensato di trasformare tutto questo in un progetto che fosse di utilità collettiva. Assolutamente sì, quindi interrogandoci sul day by day, sulla quotidianità di ognuno di noi, ci siamo accorti che le esigenze, le tematiche importanti per ciascuno fossero comuni e abbiamo perciò deciso di interpretare un esperto, una persona competente del settore per cercare di veicolare consigli pratici, utili, che possano veramente rispondere a quelle che sono le preoccupazioni di ogni giorno, di tutti noi, che se siamo più tranquilli anche su queste tematiche di tipo sociale, poi siamo anche più produttivi nel lavoro di tutti i giorni. Certamente, Viviana, prima di andare proprio a chiacchierare con il professor Castelnuovo, quindi questo rapporto nasce per questo progetto specifico? Era una conoscenza che in qualche altro momento si era comunque già posta all'attenzione? Perché avete scelto appunto questa figura in particolare? È un po' nella missione di A5 di non ricondividere solamente valore economico che noi comunque certifichiamo con dei rapporti su valore economico che ricondividiamo in tutte le nostre province. Ad esempio, basti pensare che nella provincia di Como noi ogni anno distribuiamo come valore reddito indotto 547 euro ad ogni famiglia per il semplice fatto che A5 sia presente nel territorio, quindi indipendentemente dal fatto che la famiglia sia o meno cliente di A5 riceve questo reddito indotto perché A5 sceglie fornitori locali, procura, occupazione e quindi abbiamo una ricondivisione di valore economico, una ricondivisione di tipo sostenibile perché noi ci poniamo come gruppo A5 come guida verso una transizione energetica per un futuro migliore e anche come ricondivisione sociale. In che modo? Interrogando di nuovo il professor Castelnuovo con cui abbiamo già collaborato in tempo post-Covid per cui un altro momento dove le famiglie dei nostri territori avevano questa forte esigenza di sostegno, di supporto di chi è competente a cui affidarsi per riuscire a gestire questo rapporto tra generazioni. Grazie chiarissimo e allora andiamo dal professor Castelnuovo per centrare proprio i temi che vengono focalizzati all'interno di questo progetto. Prego. Sì grazie, è stata veramente un'occasione molto utile per cercare di dare delle risposte, ovviamente non potevamo dare delle risposte complete a tutte le situazioni di disagio, tutte le richieste, però è stato bello che una realtà con cui ho avuto già modo di collaborare è obiettivo delle università e delle strutture ospedaliere dove spesso gli psicologi lavorano quello oltre che di fare ricerca anche di fare divulgazione e cercare di rispondere ai bisogni dei cittadini. In questo caso appunto A5 ha trasmesso questo grande interesse verso queste tematiche, abbiamo cercato di trovare un format abbastanza leggero che potesse dare delle prime risposte. I temi che abbiamo trattato sono stati in sostanza, prima di tutto i segnali di disagio che possiamo cogliere nelle case, come genitori spesso abbiamo dei figli in crescita e quindi dobbiamo essere capaci di vedere cosa che sta andando bene, cosa invece sono i segnali che possono indicare qualche fase di maturazione non così semplice da vivere, di disagio. E quindi abbiamo dato delle indicazioni su quali sono i segnali da cogliere, questi segnali di rischio. Poi però abbiamo cercato anche di trasmettere un messaggio positivo come favorire quelle che sono le passioni dei nostri ragazzi, che è vero siamo una generazione fragile ma anche piena di risorse, allora come possiamo difendere quelle che sono le passioni, gli hobby, le attività, i desideri, le forze, l'energia appunto, citando ancora 5, che ci sono nei nostri ragazzi. Quindi quali sono le modalità anche per sostenere dei progetti che inizialmente possono sembrarci anche non in linea con quelli che sono gli interessi di noi adulti. Poi abbiamo trattato il tema delle tecnologie. Quindi due macrotemi assoluti, l'adolescenza che tra le altre cose poi anche le varie notizie diciamo della cronaca, ciò che accade recentemente, porta la generazione davvero all'attenzione di tutti quanti. Ma come lei dice bene, poi ci sono invece tanti aspetti molto positivi che vanno forse evidenziati maggiormente. Su questo infatti uno dei temi è stato proprio quello di parlare non solo dei fatti di cronaca, che vanno inquadrati all'interno di certi contesti, di certe situazioni, ma soprattutto delle good news, cioè quelle situazioni dove il bello che c'è dentro di noi, la ricchezza, l'energia esplode. E questo è importante che appunto i giornalisti, mi fa molto piacere che state parlando di questo aspetto, possano testimoniare che c'è vero un albero che cade, ma c'è anche una foresta che cresce, che fa meno notizia, ma cresce. Quindi anche tutto quello che è l'aspetto positivo che spesso viene sottovalutato. E anche, abbiamo dato le indicazioni, per inquadrare certi fenomeni estremi, forse frutto di trascuratezze di alcuni segnali, che abbiamo cercato appunto di dare, forse le mancate risposte anche di noi professionisti, ogni tanto sbagliamo nella diagnosi, nella terapia, nell'intervento corretto, però ecco, dando degli strumenti utili ai genitori. Sulle tecnologie, stavo appunto segnalando l'ultimo macro tema, le tecnologie hanno invaso la nostra vita, possono essere viste come qualcosa di negativo, non possiamo tornare indietro, allora dobbiamo utilizzarle. E ho dato anche dei suggerimenti su come i genitori possono utilizzarle, anche seduti sul divano intorno ai loro figli, evitando di demonizzarle come se fossero qualcosa di negativo, ma cercarle di farle entrare nella vita quotidiana, ma riconoscerle anche un po' di più, non tanto per controllarle, ma per condividere un mondo che i nostri figli hanno. Anche perché è vero che il cambio di generazione è così veloce, che sicuramente tra i genitori e gli adolescenti c'è forse uno spazio anche più ampio di quello che anagraficamente riconosciamo, proprio per la capacità dei giovani di assorbire subito tutte queste nuove tecnologie, farle proprie, poi sta arrivando anche l'intelligenza artificiale, quindi credo che questo sia un altro argomento molto interessante, e quindi dare una mano ai poveri genitori, insomma, sicuramente è stata un'ottima idea. Bene, ma quanto tempo avete impegnato, lavorativamente parlando, come progettualità per mettere a fuoco i temi e trasformarli poi in queste pillole, perché queste pillole anche noi le manderemo in onda, quindi cercheremo di confortare le nostre famiglie che ci seguono e far capire che ci siamo. Quindi è stato un ampio lavoro? È stato un ampio lavoro, perché le pillole che voi vedrete sono delle pillole brevi, che rispettano quelli che sono in forma moderna, appunto, dell'evoluzione della tecnologia, che non richiede più lunghi filmati, lunghi video. Quindi abbiamo cercato di dare un format che potesse dare delle risposte e anche lasciare qualche dubbio, qualche necessità di approfondimento nella individualità di ciascuno. Però dietro una pillola che può durare pochi minuti, in realtà ci stanno ore e ore di lavoro, di progettazione, su questo 5 Viviana in particolare ha seguito tutto l'aspetto, perché dobbiamo cogliere anche quelle che erano le esigenze principali che erano, diciamo, emerse e che dovevano ricevere una prima risposta. Quindi anche la selezione dei temi, la discussione e poi tutto il lavoro di creazione delle pillole, che sappiamo benissimo che chi lavora in televisione non è che viene buona la prima. No, assolutamente, è molto difficile. Viviana, cosa vuole aggiungere? Siamo stati proprio noi dipendenti, proprio da queste chiacchiere da caffè, a mostrare l'interesse sui temi che a noi stavano più a cuore. Ed è per questo che poi siamo stati proprio noi a metterci la faccia, quindi a voler interrogare di persona l'esperto competente per cercare di portare ancora più valore sul territorio. Perché, se posso concludere, la A5 è un po', come dire, si può esemplificare con la metafora della teghiera. Per cui, per fare un buon tè che sprigioni la sua migliore aroma, che dia il miglior frutto, bisogna mettere nella teghiera una porzione di acqua per ogni persona e una per la teghiera stessa. Ecco, anche A5 deve prendersi questa missione di investire nel sociale, nel territorio, per poter avere il miglior frutto dal territorio stesso, da cui poi, ovviamente, traiamo anche i nostri benefici come azienda. Naturalmente sì, siamo in chiusura, è un progetto che continuerà? Io spero che possa continuare. Il caffè, perché poi si beve tutti i giorni, quindi usciranno altre cose. Assolutamente, perché questo tipo di indicazioni devono essere date non solo negli ospedali o negli alli universitari, ma anche in questi contesti, è bene che ci sia qualcuno che ci crede e lo sostenga. Bene, grazie. Tutto questo, ancora una volta, conferma la mission altamente sociale, di grande responsabilità e di riconversione delle energie sul territorio, che A5 molto spesso ci racconta qui in studio. Quindi grazie a Viviana Marine e grazie al professor Gianluca Castelnuovo per essere stati qui con questo bellissimo progetto. Grazie e buon lavoro. Grazie anche a voi, ci fermiamo per una pausa brevissima e poi ritorniamo insieme ad Angoli. Grazie a tutti.